E' un peccato perché penso abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo sicuramente il rammarico di non aver chiuso la partita prima, peccato per l'episodio finale, secondo me è dubbio e guardiamo avanti e pensiamo al Prato. Tu hai iniziato alla grande, così come vi avevi già fatto vedere in un buon precampionato e inizi subito segnando, questo è l'anno, l'avevi detto già in presentazione di cui ti dovrei consacrare, visto che vieni da un paio di stagioni, hai giocato veramente poco. Sì, sicuramente, poi chi gioca gioca, lo fa aprire bene nel Catanzaro, è meglio va la squadra e poi a fine stagione arriveranno le gratificazioni personali. Sicuramente se si finiva con il bottino pieno era sicuramente meglio, poi pazienza dai, ormai guardiamo avanti.